Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Smanuolest TV e oggi siamo tornati col Tour de France Allora, iniziamo subito guardando le tappe Allora, oggi ha vinto Sagan, che è anche il leader della classifica generale E anche della classifica per il miglior sprinter Ma di queste maglie poi ci occuperemo dopo Intanto andiamo anche a descrivere la tappa di domani Si parte da Granville e si arriva a Angrae Per un totale di 223,5 km Ok ragazzi, torniamo al discorso delle maglie Allora, la maglia gialla, cioè la principale del Tour de France E' la maglia del leader della classifica generale Come ben sapete Come saprete Poi invece la maglia verde per il miglior sprinter Che è sempre di Sagan, come la maglia gialla Come avevamo detto prima Il best clean bar, non so che cosa significa Medin, sui van Il miglior giovane corridore è Alaphilippe E la classifica del miglior team è questa Allora, qui ci sono molti team che hanno partecipato anche a maggio nel Giro d'Italia Tipo il team Sky, la Movistar, la Stana Pro Team, la Premerida La Team Coff, la Trek Segafredo Il team Lotto e il Lotto Soldal Qua sotto Praticamente è questo Ecco, scusate Ma qui mi arrivano messaggi a caso Allora, facciamo una bella cosa Passiamo alla UEFA Euro 2016 Allora ragazzi, io scommetto che molti di euroi avranno assistito a tutte quelle cagate che hanno fatto Zaza, Pelè e Darmian ai calci di rigore E' veramente incredibile Perché se Zaza invece a WEBS avesse segnato già Avesse segnato, noi saremmo già stati qualificati Mentre invece la Germania ci ha superati E ci ha eliminati dagli europei Comunque Zaza aveva fatto tipo una specie di balletto La buttata in curva, incredibilmente Pelè ha voluto provare il colchiaio E anche questo team è andato a far un bagno E poi invece Darmian Si è fatto parare il tiro da Neuer Comunque adesso si sta giocando Francia-Islanda Siamo al nono minuto di partita E siamo ancora sullo 0-0 E comunque ragazzi direi che per questo video posso anche chiudere qui Se il video vi è piaciuto come al solito lasciate un commento e un mi piace E soprattutto iscrivetevi